Il vento e il sole Nel Dio, il vento e il sole hanno cominciato a farlo. Il vento diceva di esser occhio forte, mentre il sole diceva che aveva la forza più grande della terra. Alla fine, decidirono di fare una prova. Vederno gli uomini che avevano un anno lungo a lo sentire e decidirono che occhio forte delle due aveva questo codo che aveva riesce a lavorare e roba d'anguette. Il vento, che siete, si mettevano all'opera. ha cominciato a soffrire e soffrire, ma il risultato fu che il viandante si accompagnava sempre di più con le due mandelle. Allora, il vento soffiò più forte ancora e l'uomo, abbassando la capa, sapeva che aveva lasciato intorno a questo. Fu allora a volte il sole, che ha cacciato il nuovo ha cominciato a lasciare un peccato. L'uomo, che aveva arrivato in bacio a un ponte, ha cominciato a lavorare le due mandelle. l'uomo, perciò che era il senno, e l'uomo, che aveva lavorato con l'acqua, si affalla davanti a favore. L'uomo, rosso purtroppo caldo, guardava l'acqua di un fiume e senza pensare due volte, si affiava. L'uomo, che ha il tempo, raraiva e raraiva, e il vento, ammoresciuto e vengetto, si scondigli da una vanna a lontano. Allora. 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 Allora.